La parola meditazione mederi che è collegata con medicina, curare, guarire, aiutare e in sanscrito, la lingua usata dal Buddha, si dice meditazione bhavana e bhavana vuol dire crescita spirituale o ricordo di sé e vedremo che la crescita è collegata alla memoria e la meditazione è anche collegata alla memoria. Il metodo diciamo MOMO, come facciamo la meditazione noi qui a Udine, è diversa dagli americani. Perché? Perché gli americani hanno tolto tutta la parte spirituale e hanno preso la meditazione così come una ginnastica, tipo lo yoga hanno fatto la stessa cosa. Invece per noi o per me tre cose sono importanti per portare la meditazione in occidente. Uno, lo studio storico critico dei testi. Bisogna vedere cosa dicevano, cosa diceva il Buddha eccetera. E lo studio anche psicologico. Vi anticipo subito che il Buddha secondo me, chiamo il Buddha per capirci, bisognerebbe, è un titolo onorifico, vuol dire risvegliato. Il Buddha è il più grande psicologo che l'umanità abbia avuto. Quindi bisogna approcciare questi testi e cercare di capire che messaggio psicologico c'è dietro e anche qual è la parte spirituale. Ecco diversamente dagli americani c'è anche una parte spirituale che non può essere negata. Poi oltre a studiare bisogna praticare. Quindi ognuno di noi, almeno io, pratico mezz'ora, un'ora, due ore al giorno. E poi nel mondo occidentale bisogna anche fare ricerca. Ossia per portare un messaggio bisogna spiegare che effetti ha, come, cosa significa. Ecco quindi questo, il MoMA ha questi tre approcci, la pratica, lo studio dei testi e la ricerca. Allora chi è questo che ha dato origine a questa forma di meditazione? Allora vi dico subito che era quello che chiamiamo Buddha un guerriero, era un nobile guerriero, addestrato per diventare re e guerriero, molto importante perché anche la disciplina poi, che a un certo punto è diventato un rinunciante. Invece di aspettare, come si fa e si fa anche adesso in India, i 60 anni, 65 anni, per entrare nella riflessione filosofica, religiosa e anche fare testamento, rinunciante vuol dire colui che ha lasciato la moglie e la famiglia, non è più proprietario di niente, ha fatto testamento e comincia il cammino spirituale. Bene, questo guerriero, questo nobile, questo principe ha fatto questa rinuncia a 30 anni. Perché insomma, e per varie ragioni, per una serie di anni, 5-6 anni, ha cercato di, seguendo dei maestri spirituali hindù, dell'induismo, di liberarsi dal dolore e seguiva una rigida diciamo disciplina e anche praticava il digiuno, finché era quasi morto. E a un certo punto ha avuto un'illuminazione che non era giusta, né la via del benessere, dell'ozio, del principe, né la via della sceta, che bisognava prendere una via di mezzo. Difatti la sua dottrina si chiama via di mezzo, dei suoi insegnamenti. E grazie a questa idea si è messo poi a meditare e una notte ha raggiunto la realizzazione, si è realizzato. In termini, in sarscrito, si dice nirvana o in pali, la lingua che parlava il Buddha, nibbana, che è stato tradotto in italiano illuminazione, ma vuol dire estinzione, si è estinto, vuol dire che è morto alla vita di ogni giorno e dopo questa estinzione, quindi questa realizzazione, che lui dice gli ha tolto il dolore, per un periodo di tempo se ne stava tranquillo, contento, insomma. E la tradizione dice che il dio più importante del mondo hindù un giorno lo ha più volte forzato a insegnare agli umani come liberarsi. E il Buddha non voleva, non era interessato, era un tipo piuttosto restio a stare con gli altri. E insomma questo dio, Brahman, ha insistito, insistito, dice la tradizione, finché un giorno il Buddha ha deciso, sì, di dedicarsi all'aiuto degli altri. E qui si rivela un altro aspetto del Buddha, che oltre a essere il più grande psicologo probabilmente dell'umanità, è stato anche uno dei più grandi pedagogisti, perché decidendo di insegnare ha trovato un insegnamento semplicissimo e germinativo. L'insegnamento è qui, raggruppato nelle quattro nobili verità, vengono chiamate. La prima nobile verità è che la natura della mente è intrinsecamente caratterizzata dall'insoddisfazione, dal malessere e dal dolore. Il termine è Dukkha, vuol dire insoddisfazione. Se dico mente dico anche universo, perché per il Buddha, vedete c'è scritto là una frase sottolineata da uno dei maggiori studiosi occidentali del Buddha, la grande intuizione del Buddha è che tutto quanto di importante accade, accade nella mente. Dunque, quando parla di una natura intrinseca della mente caratterizzata dall'insoddisfazione, per lui anche l'universo così caratterizzato dall'insoddisfazione. Ovviamente è una metafora e queste quattro nobili verità non sono affermazioni scientifiche, sono affermazioni appunto filosofiche o spirituali. e la seconda nobile verità è come si origina il dolore o il malessere o l'insoddisfazione. Lui dice per tre veleni, sono tutte metafore, i tre veleni sono l'ignoranza, il desiderio e l'odio. La terza nobile verità è possibile superare questo dolore e la quarta nobile verità sono otto passi per superarli. Difatti, la prossima diapositiva parla di questi otto passi. Vedete, gli otto passi si possono riassumere in due gruppi. Il primo gruppo è una serie di adempimenti etici. Il secondo gruppo riguarda la meditazione. Quindi questa via può essere seguita solo se si attuano degli adempimenti etici. Per cui quella immagine, per esempio, gli adempimenti etici sono qui. Precisa comprensione, ossia per cominciare la via uno deve capire che la natura intrinseca della mente è caratterizzata dall'insoddisfazione. Se uno non capisce questo non comincia la via. Per questo noi andiamo negli ospedali, dove se tu gli dici che esiste il dolore, tutti ti credono. Se invece vai in una discoteca e raduno i ragazzi e dice la prima nobile verità è l'esistenza del dolore e malessere, nessuno ti viene dietro. Quindi ci vuole la retta comprensione, che non ci appaga nulla. la seconda è precisa intenzione, preciso pensiero, precisa azione, precisi mezzi di sussistenza. Vedete, la quinta dice che chi porta un'arma è inutile che mediti, è inutile che cominci la strada. Quindi quella figura che ha mostrato Luca con i poliziotti che meditavano con la pistola, noi non lo facciamo. Io non vado a insegnare la meditazione a chi porta un'arma. Questi cinque passi sono fondamentali per preparare agli altri tre, che sono i tre su cui si lavora con la meditazione. Vedete, gli ultimi tre sono preciso sforzo o retto sforzo, che vuol dire che nella meditazione e nel lavoro non devi né esagerare né essere pigro, pigro, né essere pigro. Il settimo passo è Giussama Sati. Ed ecco il libro che ho scritto riguarda questo settimo passo, che si traduce in inglese Sati, Mindfulness, e vedremo in italiano ci sono molti termini. Per questo è importante studiare da un punto di vista critico, perché noi non sappiamo bene cosa significano queste parole. Comunque, Sama Sati è il settimo passo dell'ottubrice sentiero e viene tradotto come Mindfulness. E poi c'è l'ultimo passo, Samma Samadhi, che noi non insegniamo, che sarebbe l'ultimo livello di meditazione, che vuol dire meditazione unitiva. Per dirvi come si lavora, c'è un ricercatore, qui un filologo inglese, che ha scritto un libro chiedendosi qual è stato il contributo del Buddha all'interno dei sistemi di meditazione in India. Ha fatto vari studi e secondo lui il contributo del Buddha è che rispetto allo yoga, che è precedente, al Buddha, che cercava di raggiungere il Samadhi, nello yoga l'obiettivo è raggiungere lo stato di meditazione in cui l'individuo si, diciamo, annulla nel tutto, rispetto a questa idea meditativa dello yoga e dell'induismo, il Buddha, secondo Winnie, ha introdotto un altro aspetto originale, che bisognava entrare nel Samadhi, quindi questa meditazione concentrativa, non in trance, ma in consapevolezza, in perfetta attenzione, Samma Samadhi, Samma Sati. E allora noi che cosa abbiamo fatto, per dirvi uno studio, abbiamo negli anni, nel 2015, ricercato tutti i lavori che erano stati fatti in letteratura con le neuroimmagini, ossia di soggetti che meditavano all'interno di una risonanza magnetica e abbiamo diviso quelli che meditavano secondo la tradizione buddista, li abbiamo tutti caricati insieme, e quelli che meditavano secondo la meditazione buddista. E che cosa abbiamo visto? Che, così vi interpreto, che quelli che meditavano secondo la tradizione buddista, attivavano queste aree del cervello, il lobo prefrontale, quelli della meditazione induista, queste aree, il lobo parietale temporale. E che cosa vuol dire questo, da un punto di vista neuroscientifico? Che Winnie aveva ragione, la meditazione buddista passa attraverso l'attenzione e l'autocontrollo. La meditazione induista passa attraverso, passa attraverso, diciamo, i fenomeni di uscita fuori dal corpo, di trance. E quindi ecco che con le neuroscienze abbiamo potuto confermare una ipotesi filologica. Bene, adesso parliamo della proprio, entriamo nel, che cos'è la meditazione sati? Per parlare della meditazione sati, e faremo una piccola esperienza di due o tre minuti insieme, devo parlare di compiti e atteggiamenti. Allora, diversamente da Gesù, il Buddha ha dedicato molta attenzione a spiegare come pregare o come meditare, mentre Gesù, sapete che, diciamo, ha insegnato solo il Padre nostro, no? Almeno nei Vangeli, non c'è molto altro. Il Buddha, per esempio, ha dedicato un discorso che si chiama Grande Discorso sui fondamenti della presenza mentale per spiegare che cos'è sati, il settimo passo dell'ottopice sentiero. E come si fa? Bene, come si fa? Si fa con quattro compiti. Allora, il primo compito per meditare sati non è una roba, diciamo, esoterica. Il primo compito è si fa facendo attenzione all'aria che entra e esce dal naso. Difatti dopo faremo un piccolo esercizio perché mi serve per spiegare altri aspetti successivi. Uno medita sentendo l'aria che entra e esce, soprattutto sentendo che l'aria che entra è fresca e l'aria che esce è calda. Mentre fa questa cosa qui, gli entrano dei pensieri in testa, no? Per esempio la conferenza da tenere a Basiliano su Don Bellina, ecco. E che cosa fa? Quando uno è lì, cosa dirò, cosa non dirò? Quando si accorge, orpo, sto perdendo l'attenzione, ritorna a portarla, quando la perde, sul naso. Quindi questo si chiama Ana, l'aria che entra, Pana, l'aria che esce, sati, sono consapevole. Ana, Pana, sati. Il primo compito. Il secondo si fa attenzione alle parti del corpo. Noi facciamo dieci minuti questo esercizio qui, poi dieci minuti le parti del corpo. Per esempio uno porta l'attenzione al piede sinistro, cosa sente, no? Il pavimento, eccetera, i calzini, poi alla gamba sinistra, poi al sedere, poi al piede destro e via su, così. E quindi dieci minuti di attenzione al corpo. A che cosa serve questo? È la strada per capire le emozioni. Noi, in genere, non sentiamo le emozioni, se non quando sono esagerate. Sentendo il corpo, piano piano impariamo a sentire le emozioni. Quindi si chiama contemplazione del corpo. E la terza parte di questi compiti, no? È osservare la mente. Dieci minuti noi guardiamo la mente. E cosa guardiamo? Per esempio, vediamo che mi entra il pensiero di fare la conferenza su Don Bellina. Poi mi viene il pensiero di fare la conferenza sulla presentazione del libro di Vianello, che è qui, Angelo davanti. Poi mi viene un altro pensiero che devo pagare l'Imu. E mentre ho il pensiero che devo pagare l'Imu, io dico c'è il pensiero che devo pagare l'Imu. Un momento fa c'era il pensiero che dovevo fare la conferenza della presentazione del libro di Angelo Vianello. Un momento prima che mi è entrata nella mente l'idea di fare la conferenza su Don Bellina. E notate che ogni volta che entro un pensiero, quel pensiero sembra il più importante. Spesso è fonte di preoccupazione. Ma mentre io lo osservo e osservo che se ne va e mi ricordo quello prima e mi ricordo ancora quello prima, io prendo una distanza da tutti e tre. In più ricordo chi sono. Questa si chiama osservazione della mente. È una pratica, vedremo, molto importante anche per certe malattie. Perché per esempio nei depressi vengono dei pensieri tipo ucciditi, non vali niente, non serve a nessuno. Se uno c'è dentro rischia di farlo. Se uno li guarda da fuori e dice guarda mi sta capitando questo pensiero. Oh, guarda quest'altro, ha già preso una certa distanza. E poi c'è la quarta parte che noi non facciamo, la consapevolezza del Dharma. Non parlo oltre perché eventualmente se qualcuno vuole, molto importante, no? E quindi le nostre meditazioni sono dieci minuti di attenzione all'aria che entra e esce, dieci minuti di osservazione di com'è nel corpo, per esempio se ha dei dolori, eccetera. E dieci minuti di osservazione della mente. Questi si chiamano i compiti della meditazione mindfulness. Il corso è organizzato per chi non l'ha fatto in otto settimane. Facciamo un incontro alla settimana. In ogni incontro parliamo dieci minuti, uno, chi di chi coordina, di un tema sugli atteggiamenti, di cui dirò adesso. E poi facciamo mezz'ora di meditazione insieme, no? Sul respiro, sul corpo e sull'osservazione della mente. Poi discutiamo come va la meditazione a casa, no? Perché un'ora parliamo con tutti quelli che hanno partecipato. E poi a casa le persone si impegnano a meditare mezz'ora ogni giorno. E dopo due mesi finisce il corso. E noi spesso abbiamo fatto degli studi per vedere se le persone dopo due mesi erano uguali a quelle di prima. E non è così. Sono cambiate. Bastano già due mesi. Due mesi uno vede se quella è una strada utile per lui. Perché è un po' come andare in bicicletta. Nello stesso tempo invitiamo a leggere un libro. A leggere un libro perché non è solo praticare, ma bisogna anche studiare, fare anche degli esperimenti. Poi quelli che hanno fatto un corso, che si chiama Corso MOM, come anche quelli americani, noi una volta al mese, quelli che ci troviamo, quelli che vogliono e desiderano meditare ancora, per studiare un libro, per discutere insieme. Qui all'università la scuola superiore ci dà una sala, per cui manteniamo anche una certa continuità e adesso abbiamo una decina di istruttori e facciamo corsi alle scuole, insomma, gli insegnanti. Quindi c'è una organizzazione piuttosto complessa. L'unico momento quando si inizia sperimentale per sapere quando si è nella meditazione è proprio il momento in cui si dice orpo avevo perduto l'attenzione qua, perso dietro l'immu da pagare. Quello, quindi la meditazione mindfulness è una via che si impara riconoscendo gli errori. Vedete qui, qui per esempio noi facciamo, hanno fatto degli studi così, per capire quando è uno è veramente nella meditazione, ha un pulsante, è dentro nella macchina, nella risonanza magnetica, sta facendo l'esercizio, quando si accorge di aver sbagliato preme il pulsante e qui vedete quando preme il pulsante è questo punto qui. Bene, si studia questi secondi prima che si chiamano di vagabondare della mente e questo secondo qui è mindfulness. Quindi diciamo questa è una strada dove per imparare devi sbagliare e riconoscere che hai sbagliato. Sbagli, ti accorgi di aver sbagliato, ti rimetti a fare il compito, poi perdi l'attenzione. Quando ti accorgi di aver sbagliato sei veramente, diciamo, il momento in cui sei sicuro di essere è l'attimo in cui ti sei accorto che prima sbagliavi e piano piano si impara a allungare sempre di più questo periodo. Quindi il primo atteggiamento, oltre ai tre compiti, il primo atteggiamento è riconoscere che si stava sbagliando quando si diventa consapevole. Il secondo è un po' più delicato, si chiama atteggiamento equanime. Gli americani l'hanno tradotto come non giudicante ed è venuto fuori un grande casotto perché non giudicante vuol dire che puoi fare quello che vuoi, ossia spari, uccidi uno e non si può giudicare. No, invece la traduzione giusta è equanime. Che cosa vuol dire equanime? Guardate che qui andiamo nel profondo della psicologia. Anche la psicologia occidentale riconosce che quando sorge qualsiasi cosa nella mente, un pensiero, una sensazione, un ricordo, immediatamente siamo stati abituati fin da piccoli a fare tre cose. Ignorarlo, ignoranza, se piace avvicinarsi, questo mi piace, o se non piace ritirarsi, odiare. Invece che cosa insegna il Buddha con questo metodo? Non fai niente, ossia stai fermo con la mente, osservi, quindi combatti l'ignoranza, non ti avvicini, quindi non ti fai prendere dal desiderio, non ti allantani, non ti fai prendere dall'odio. Ed è tutto un lavorare, sorge per esempio pagare l'Imu, porca miseria, l'Imu, no? Oppure qualche altro, no? Sorridere, non mi avvicino, non mi allontano, non lo ignoro, no? Atteggiamento equanime, si dice, per esempio è importantissimo praticare questo atteggiamento equanime di fronte al dolore. Per esempio ho un dolore, sia fisico, durante la meditazione, stando seduto in quella maniera là, avvengono dei mal di ginocchi terribile, per cui si medita sul dolore, oppure anche se uno ha un'emozione, per esempio l'ansia. L'ansia, che cosa si fa? Allora, si va di fronte al dolore, si guarda le caratteristiche del dolore, per esempio si ha il ginocchio, dove? Quanto esteso? Che caratteristiche ha il dolore? Pulsa o cresce, diminuisce e si sta lì di fronte, sorridendo, con atteggiamento equanime, il dolore tenderà a crescere, 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 si sta sempre fermi, perché si impara diverse cose così. Quindi questo è il secondo atteggiamento, il primo atteggiamento è imparare riconoscendo gli errori, il secondo atteggiamento è sto fermo, come i soldati alle termopili contro i persiani non si sono date le gambe, sapevano che morivano, eppure sono stati fermi, magari sorridendo, perché questa è anche una tecnica per addestrarsi a come entrare nella morte, ossia si può entrare nella morte con paura, si può entrare nella morte invece con un atteggiamento equanime, tanto muori lo stesso. Tra le due cose penso sia meglio l'atteggiamento equanime, non si sa poi, nonostante l'allenamento, che cosa si farà in quel momento. Terzo atteggiamento è vivere il qui e ora. Che cosa vuol dire? Vuol dire, potrei dire, vivere l'evento, anche questo è un termine quasi filosofico. Gli esseri umani, solo gli esseri umani, hanno un dispositivo mentale generato, fatto dal nostro cervello, che gli permette di immaginare il tempo. Negli altri animali non... E noi quindi, come facciamo? Insomma, poi se volete si può anche... Noi siamo in grado di immaginare, per esempio, il futuro, no? E grazie al sistema per immaginare il futuro, che è molto utile per la specie umana, no? Il magnifico rettore ha chiamato l'università Ixun Futura. Io gli ho detto che secondo me bisognava dire Ixun Spes o qualcosa del genere, no? Perché noi, sentite, non esisterebbe la tecnica senza questo dispositivo. Perché mentre costruite uno strumento, dovete pensare all'uso che si fa. Quindi il progetto, no? Che è alla base dell'ingegneria, è dovuto a questo dispositivo. Però che cosa succede? Questa capacità di immaginare il futuro e questo sistema viene usato per immaginare il passato. Quindi, già un filosofo l'aveva detto, che non è il futuro che si basa sul passato, è il passato che si basa sul futuro, dal punto di vista psicologico. Bene, questa capacità di immaginare il futuro e grazie alla capacità di immaginare il futuro di immaginare anche il passato, fa sì che l'uomo non sia mai nel presente. E sempre che fa progetti, alcune persone, tipo penso il magnifico rettore, fa sempre progetti, altri sono sempre nel passato a lamentarsi delle cose che... E nessuno vive il momento presente. Allora, si si è accorti, eh, questo. Quindi, cosa fa la meditazione mindfulness? Fa vivere le persone nel momento presente, perché quando soprattutto senti le sensazioni, non è attivo questo dispositivo di vagabondare della mente. E, per esempio, noi abbiamo fatto qui, come diceva, questo è uno studio fatto a Udine, su persone, studenti dell'università, che gli abbiamo fatto, gli abbiamo messi nella risonanza prima di fare il corso, e loro meditavano così come voi. Poi, dopo due mesi, li abbiamo rimessi a fare questa roba e che cosa abbiamo visto? Varie robe, ma comunque abbiamo visto che si disattivava il sistema per viaggiare nel tempo, che è collegato col sé. Il sé è parte di questo dispositivo, perché quando tu viaggi nel tempo, devi avere sempre un centro da cui guardare il davanti e il di dietro. Quindi, la meditazione sviluppa anche l'atteggiamento del essere nel momento presente o, secondo certi filosofi, essere nell'evento, ossia guardare le cose qui davanti, adesso, perché ci sono persone che non vivono mai qui. Per esempio, chi non sente il suo corpo, quasi tutti i maschi, non sentono il corpo, non vive nel momento presente. È nella mente che viaggia, e sono ancora uno o due atteggiamenti. L'altro atteggiamento è essere autocoscienti. Come fa la mindfulness a diventare autocoscienti? Beh, intanto, questo messaggio e anche altri mistici hanno detto che gli esseri umani tendono a vivere come dei robot. Non sono veramente vivi. E' come quando si fa, non so se avete mai fatto un viaggio in autostrada, e dite, ma cosa ho fatto nelle ultime due ore? Beh, sembra che gli esseri umani passino questo tempo. Cosa ho fatto negli ultimi dieci anni? No? Non sono autocoscienti, sono a un basso livello di coscienza. E questo si vede anche dal numero di ricordi. Più ricordi uno ha, più è consapevole mentre vive. Ricordi, ricordi non conoscenze semantiche, ricordi di scene, no? Perché quando si ricorda, si chiama memoria episodica, uno per ricordare, per esempio, non so, il giorno della vostra laurea. Immaginate il giorno della vostra, il ricordo del giorno della vostra laurea. Per fare quella cosa lì, tu devi nella tua mente generare una scena del ricordo della tua laurea. E nello stesso tempo hai un'altra scena, questa qui. E quindi devi sapere che quell'altra è una scena della memoria. Quindi quando noi ricordiamo, dobbiamo sempre essere episodicamente autocoscienti. Per questo la meditazione mindfulness, che vi ho detto, vi ricordate, osserva un pensiero, che poi si succede un altro pensiero, che si succede un altro pensiero. Quando fa queste cose qui, ho un ricordo, è in uno stato di autocoscienza. Vito Mancuso, che è un nostro amico, per esempio, dice che nei Greci, i Greci riconoscevano due anime, una psichica e una spirituale. E la spirituale è quell'anima che guarda quella psichica. Autocoscienza. Ossia, quando tu guardi quello che ti capita dentro la tua mente, sei a un livello spirituale. Per esempio, tutti voi avete sentito le canzoni di Battiato. Lui spesso dice, cerco un centro di gravità permanente. Ossia, cerco un punto da cui guardare tutto quello che succede nella mia mente. Quindi cerco un punto, mi alzo, per osservare quello che succede nell'anima psichica. Questo anche guardare crea quella situazione che vi ho detto, disidentificazione, che è molto utile nella terapia. Per esempio, come vi dicevo prima, una cosa è essere depressi e un'altra cosa è guardare la propria depressione. Una cosa è essere tristi, un'altra cosa è guardare la tristezza. Quindi questa meditazione mindfulness ti abitua a prendere un livello dal cui guardi e non sei più dentro. Per esempio, una cosa è essere arrabbiati e una cosa è guardare la propria rabbia. Difatti noi, quando meditiamo, non blocchiamo le emozioni. Le guardiamo e, guardate, essere arrabbiati e guardarsi arrabbiati è tutta un'altra cosa, diventa ridere, no? Perché, sì, un altro atteggiamento è la gentilezza. Su questo non dirò tanto, però, come vi ho detto quando meditavate, vi dicevo se potete, e noi facciamo molta attenzione a questo, fare un sorriso anche, no? Perché fare un sorriso o coltivare la gentilezza aiuta a guarire se stessi. È una cosa molto complessa, perché prima di tutto, secondo questa via qui, bisogna avere compassione di sé. Soltanto chi ha compassione di sé e chi guarisce se stesso può far del bene a un altro. Difatti anche il Buddha ha detto un'altra cosa. Se uno vuole veramente bene a se stesso, non può far del male a nessun altro. Significando che tutte le persone che fanno del male, prima di tutto fanno del male a loro stessi. L'ultimo atteggiamento è questo qui, lasciare andare. Questo è il più difficile di tutti, no? L'ultimo atteggiamento. Perché? Perché noi, dagli studi di psicologia, ma anche dalle vostre esperienze, il nostro più grande problema è avere fiducia. Sembra, dagli studi di psicologia, che a un certo punto, nel rapporto con la mamma, no? Che ci ha dato tantissimo, comunque i bambini, a un certo punto, si accorgano che la mamma non gli dà tutto quello che vorrebbero. Perché, ovvio, sono due persone differenti. La reazione del bambino di fronte a questa, a questi, non è una volta sola, sono tante volte, di questi, da una fusione in cui erano uno, a una separazione in cui la mamma non può dare tutto, sembra che una delle reazioni fondamentali del sé sia dire non mi posso fidare neanche di mia mamma, e dunque non mi posso fidare neanche del mondo, e dunque io sono più importante di tutto, e dunque, insomma, tutte cose, ovviamente, che io dico così in maniera metaforica, ma dovete capire, insomma, il nucleo, sta di fatto che queste reazioni di sfiducia fanno sì che noi siamo sempre che controlliamo la nostra vita psichica, e qui con la meditazione si abitua piano piano a lasciare andare. Che cosa vuol dire? Per esempio, quando abbiamo un dolore nel ginocchio, noi subito, dopo due o tre volte, invitiamo la gente a fare la meditazione sul dolore. Andiamo lì davanti, lo osserviamo, e facciamo una cosa, che è, diciamo, la via per lasciare andare. Stiamo attenti alla muscolatura. Se la muscolatura è tesa, perché di fronte a ogni dolore il corpo reagisce, noi lasciamo andare. E piano piano, lasciando andare la muscolatura, impariamo il lasciare andare psicologico. Per esempio, io vado a dormire, non riesco a dormire, non so se vi è capitato, mi giro, mi volto, sento che c'è qualcosa dentro. Allora io comincio subito a meditare, no, con questo metodo, e lascio andare. Lascio andare, ossia, è difficile dire, bisogna, sapete come si dice in arabo, lasciare andare? I miei studenti lo sanno già. Islam. Si dice Islam, ossia, si abbandona. Se uno fosse un vero credente, si lascia andare, alla volontà di, se uno è credente, è che noi non siamo veri credenti. Noi diciamo, insomma, forse, di fatti, il mio amico Don Rinaldo Fabris, no, mi diceva sempre, sì, sì, tutto bene, no, tutto bene quello che diciamo, però, che io si impissigùs di là. Qui siamo, diciamo, sì, qui in questo mondo, insomma, sì, si parla di qua di Dio, di qua di là, però, qui siamo più tranquilli. Ecco, e quindi concludo qui, meditazione nuovo umanesimo, da una condizione di sfiducia, di difesa e di guerra, che sono la base della personalità di ognuno di noi, di tutti gli esseri umani, di tutti, o si può uscire da questa cosa anche senza fare la meditazione, c'è qualche illuminato, fra virgolette, che fa il pastore, no, però questa è la condizione, noi dobbiamo portarci a una situazione aperta, di fiducia, di riconoscimento degli errori, di equanimità, no, che vuole, e di osservazione, attenzione, pace, atteggiamento, che cosa si fa? La meditazione è una maniera per fare delle abitudini positive che si affianchino alle abitudini negative che costituiscono la nostra personalità. Quando abbiamo tante negative che sono di default e tante positive, uno è di fronte alla scelta, se fare questa o fare quella. Chi non pratica la meditazione ha solo tante negative. ho finito. Grazie.